eccoci e bentornati sul mio canale oggi ragazzi video diverso dal solito perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi volevate informazioni e notizie sul nuovo watch dogs 2 annunciato proprio dalla ubisoft in questi giorni se ben ricordate avevo fatto tutto il walkthrough sia della campagna che di moltissime missioni secondarie del primo mi era piaciuto veramente molto questa cosa del lagerare il mondo intero ebbene ubisoft ha annunciato watch dogs 2 in arrivo il 15 di novembre su playstation 4 xbox one e pc il gioco è in sviluppo da oltre due anni dallo stesso team autore del primo watch dogs il secondo capitolo del celebre franchise open world sarà ambientato nella baia di san francisco si tratta dell'ultima città ad aver adottato il ctos 2.0 un sistema operativo avanzato che gestisce le diverse infrastrutture urbane ma che nelle mani sbagliate può essere utilizzato anche per controllare e manipolare ogni singolo cittadino quindi riprende in tutte e per tutte la filosofia del primo capitolo vestiremi i panni di marcus holloway un giovane hacker caduto vittima degli algoritmi predittivi del ctos 2.0 tanto da essere accusato di un crimine che non ha mai commesso nella missione di marcus per disattivare il ctos 2.0 la king sarà la sua arma migliore ma i giocatori potranno violare non soltanto le infrastrutture della città ma anche ogni singolo cittadino e qualsiasi dispositivo connessi il loro possesso per scatenare così una serie di eventi imprevedibili grazie al hackeraggio potremo controllare droni auto gru robot di sicurezza e molti altri dispositivi inoltre le missioni le potremo completare in maniera del tutto furtiva senza uccidere nessuno o optate per un approccio più diretto potremo lanciarsi in scontri diretti con le armi come vi diceva ad inizio video watch docs 2 sarà ovviamente open world e dovremo farci largo nel traffico grazie alle potenzialità dell'hacking mentre affronteremo pericolosi inseguimenti fra le diverse strade di san francisco infatti oltre ad attraversare i tetti dei quartieri di okland potremo addirittura infiltrarci negli uffici di alcune delle società più all'avanguardia della silicon valley oltre alla versione standard è possibile prenotare diverse edizioni speciali del gioco la deluxe edition la gold edition la san francisco edition in esclusiva sull'uplay store è possibile anche prenotare il ranch junior robot collector pack e ritorno di the deck collector box andiamo a piccoli passi la deluxe edition include il gioco in una collector box esclusiva la mappa di san francisco alcune litografie il pacchetto contenuti deluxe e due pacchetti digitali per la personalizzazione di automobili droni ed armi la gold edition include il gioco il pacchetto contenuti deluxe e il season pass la san francisco edition che nel suo cofanetto da collezione include il gioco alcuni contenuti digitali la statuetta di marcus alcuni adesivi per il portatile a tema delle litografie e una mappa di san francisco mentre per quanto riguarda il ritorno di dead sec collector box include la gold edition e alcuni gadget a tema dead sec mentre il ranch junior robot collector pack include la gold edition e una replica di 20 centimetri del robot ranch junior presente nel gioco prenotando una qualsiasi edizione del gioco sarà possibile ricevere la missione aggiuntiva zodiac killer nel quale i giocatori dovranno decifrare i codici e catturare il killer per completare la missione ed ottenere inoltre un completo esclusivo fatemi sapere che cosa ne pensate del nuovo watchdogs mentre vi parlavo vi ho fatto vedere anche le primissime immagini del titolo in arrivo il prossimo 15 di novembre su playstation 4 xbox one e pc video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale